Ragazzuoli, ciao a tutti, finalmente nella giornata di ieri Scanavino ha preso parola davanti ai microfoni di Dazon prima del fischio d'inizio di Juventus-Atalanta e mi sento anche di dire finalmente, ecco, onestamente mi sarei aspettato un'apparizione dei dirigenti Juventus al posto della conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre-Juventus-Atalanta mentre invece alla fine lì abbiamo visto l'immagine di un uomo solo che si è dovuto difendere praticamente a 13-14 ore di distanza dai 15 punti di penalizzazione della Juventus e ammetto appunto che mi ha fatto tanta tenerezza vedere Allegri in quel momento mentre invece anche alla buonora mi sento di dire, questo magari anche considerando che Cherubini di fatto al momento non può operare davanti ai microfoni è andato Scanavino non mi avrebbe stupito neanche un'apparizione di manna ad onor del vero però Stabon che è andato Scanavino ed effettivamente ha parlato quasi solo ed esclusivamente della questione legata ai 15 punti di penalizzazione l'intervista integrale è visibile su Dazon o è leggibile anche sul sito ufficiale della Juventus e qui andremo a parlare di alcuni spezzoni di questa intervista partendo appunto dalle sue parole iniziali innanzitutto vorrei a nome di tutta la società prendere le distanze da pseudo tifosi che hanno utilizzato un linguaggio di odio e di minaccia nei confronti di Gravina della sua famiglia e del procuratore Chinè noi sosterremo con grande decisione la nostra difesa ma questo sempre con grande rispetto e competenza nei modi e nelle sedi opportune riteniamo questa sentenza assolutamente ingiusta e iniqua e secondo me senza troppi giri di parole ha fatto bene ad iniziare prendendo le distanze da tutti coloro che una volta emessa la sentenza hanno iniziato a minacciare a destra e manca in questo caso soprattutto Chinè per quanto riguardi invece Gravina ma soprattutto la moglie la compagna mi sento di dire ci sta prendere le distanze assolutamente perché ieri è iniziato a circolare in rete un pseudo screen di una storia Instagram della compagna di Gravina dove fondamentalmente perculava la Juventus con il logo e il meno 15 cosa che poi pare si sia rivelata fake lascio il beneficio del dubbio semplicemente perché anche a me stesso sarebbe piaciuto verificare di persona ma nel momento in cui la compagna di Gravina ha un account privato non ci ho potuto far nulla ecco dico la verità come cosa onestamente mi avrebbe davvero stupito fino a una certa ma considerando anche la posizione che ricopre lei e il suo compagno mi sembra una cosa abbastanza stupida da fare realmente concretamente quindi giustissimo prendere le distanze e ci mancherebbe altro nei prossimi giorni aspettiamo le motivazioni che dovrebbero arrivare entro fine mese ma sicuramente faremo appello al CONI per sostenere le nostre posizioni che sono solide e chiare e che erano già state accettate con successo nel percorso ordinario crediamo di averne delle altre e continueremo su questo percorso che questa sia una sentenza ingiusta non lo crediamo solo noi della Juventus e i nostri tifosi e qui banalmente come al solito staremo a vedere perché presumibilmente tanto uscirà da quelle che saranno le motivazioni che hanno portato a questa scelta sul fatto che la Juventus interverrà al CONI lo sappiamo lo sappiamo praticamente da un'ora dopo l'uscita della sentenza in sé e vedremo se effettivamente le motivazioni che avranno dato quelli della procura federale saranno tra virgolette deboli e la Juventus avrà o meno poi di conseguenza la possibilità di rispondere nel merito per sminchiare fondamentalmente le tesi della procura federale fino a quel momento te ci puoi fare anche relativamente poco poi per carità è vero che le motivazioni della Juventus erano state inizialmente accettate dal processo ordinario poi però devi vedere anche che cosa è emerso che cosa viene scritto e quant'altro perché è indubbio che se tutte le altre sono state prosciolte a te hanno addirittura aumentato la pena rispetto a quello che era stato inizialmente chiesto da chi ne stesso non dico che evidentemente è perché un qualcosa è emerso al 100% però vedremo semplicemente quelle che saranno le motivazioni nel merito che hanno portato a prendere questa decisione credo che abbiano capito come la giustizia federale possa comportarsi in modo sommario ingiusto questo crea preoccupazione perché oggi è successo alla Juventus ma domani può succedere ad un'altra squadra questo riferito a tutti quei tifosi non propriamente juventini che si sono espressi dopo la sentenza dicendo che per quanto no magari possa anche far piacere il fatto che sia accaduto alla Juventus non è che sia stata proprio una sentenza giustissima però io da questo punto di vista a Scanavino posso dire solamente una cosa mangia tranquillo non ti preoccupi mangia tranquillo senza nessun tipo di problema non preoccuparti riguardo il fatto che magari questa volta è accaduto alla Juventus la prossima volta chissà non c'è nessun chissà mangia tranquillo ho letto no come presumibilmente tutti quanti voi che chi ne ha chiesto anche al tribunale di Napoli le carte per la questione legata a Dosimè voglio vedere tu nel dubbio Scanavino veramente mangia tranquillo dobbiamo essere pronti a tutto purtroppo questa sentenza ci ha insegnato che è inutile essere ottimisti o pessimisti ma dovremmo essere preparati pronti e determinati anche questa situazione che non ci aspettavamo potesse avere queste dimensioni era qualcosa che stava nelle potenziali opzioni abbiamo un consiglio di persone estremamente esperte un pool di avvocati capaci e porteremo avanti con grandissima determinazione gli elementi a sostegno delle nostre ragioni qui c'è poco da dire speriamo speriamo sia effettivamente vero speriamo soprattutto poi che ci possa essere una volontà reale e concreta di difendersi non a parole ma con i fatti molto probabilmente potrebbe passare soprattutto da questa semplice e banale cosa né più né meno ognuno ha le proprie caratteristiche noi siamo un pool di professionisti persone che hanno una serie di competenze dedicate alla gestione della società della parte sportiva e delle problematiche giudiziarie il presidente ha voluto confermare che avremo un approccio competente e rispettoso io per carità mi immagino che non ci si possa presentare davanti a un giudice e dirgli figlio di puttana devi morire su questo probabilmente siamo tutti quanti d'accordo qualche folle lo farebbe ma in linea di massima siamo tutti quanti d'accordo però nel senso l'approccio competente ci mancherebbe altro rispettoso indubbiamente sì però secondo me è sempre giusto porre un limite perché comunque l'approccio competente rispettoso ci deve essere anche dall'altra parte perché se lo utilizza solamente una parte delle due succede che la parte che non lo utilizza fondamentalmente viene mangiato e perculato quindi indubbiamente sono un pool di professionisti di gente preparata di gente che ha curriculum che fanno rabbrividire da quanto sono lunghi e per i ruoli che hanno ricoperto senza ombra di dubbio però è sempre giusto anche porre un limite perché farlo con il sorrisino farlo in un modo buono spesso e volentieri funziona fino a una certa e sembra superfluo dire che il presidente e io in questo caso non mi riferisco tanto a Ferrero ma mi riferisco soprattutto a Elkan che più che presidente e proprietario ci tenga questa volta a differenza dell'altra a difendersi più che altro per una semplice e banale motivazione ha più o meno 700 milioni di motivi poi nel senso veda lui dopo lì è tutto soggettivo cioè se magari lui stesso in primis ci tiene a mandare a Ramengo 700 milioni dopo lì giustamente vede lui no? di fatto sono suoi non sono miei le parole di Scanavino ovviamente sono state parole molto diplomatiche e ci mancherebbe altro dalla presentazione che era stata fatta qualche giorno fa si era capito che probabilmente sarebbe stata intrapresa sin da subito una linea di questo genere banalmente perché l'avevano detto loro in primis durante quella conferenza di presentazione tra virgolette davanti i media e vedendo anche il ruolo che coprivano precedentemente ci sta è legittimo che possa essere di quel genere poi però come detto anche in un altro video nel video dell'altro ieri mi auguro che poi ci sia una reale e concreta intenzione di difendersi quei coglioni e quei controcoglioni perché altrimenti rischia di essere davvero aria fritta voi ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve aria 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 Grazie a tutti.